Ciao a tutti ragazzi, io sono Alice e bentornati al nostro canale Ok, mi sentite, spero di sì, come sempre non posso urlare, ormai è un intro precisa, non posso urlare Mi raccomando, prima di iniziare il video, iscrivetevi al canale e lasciate un like al video, grazie Siamo arrivati al livello 15, finalmente Allora, ci sono un pochino di cose da fare Innanzitutto, giriamo la ruota, gira la ruota, yeah, yeah Mi piace di più giocare ai dei rispetto che a The Sims, perché a The Sims molto spesso non so cosa devo fare Ho vinto i chiodini, bene, fantastico Vediamo cosa mi hanno preso in bancarella Perfetto, ah già, c'è un nuovo Vediamo se sto registrando, sì C'è una nuova costruzione da sbloccare, quindi la sblocco subito Ho sbloccato il forno pasticci, mettiamo subito qualcosa da farsi Così, insomma, no, il silo è pieno, strano, non è mai pieno Però ho aperto il silo e ho quattro viti, quindi lo posso ingrandire, vado, lo faccio subito Perfetto Vediamo un po' le missioni che dobbiamo fare Innanzitutto raccogliamo tutto quello che c'è da raccogliere Focacce, zucchero, poppy corne, patatine in quantità Ok, abbiamo sbloccato delle missioni, vediamo un po' Quelle che ci danno Non ne conviene, quindi questa da 160, vai Obiettivo del pasto è completato Vediamo un po' gli obiettivi, mancano 5 giorni alla fine degli obiettivi Un po' di missioni da fare, per sbloccare il pasto raccogli 100 unità di carote Quindi mettiamole subito, ma tanto farò molta difficoltà Ok, altre missioni da fare è questa assolutamente Che aveva 120 stelline, così saliamo di livello Ok, intanto, nel frattempo qua sta cuocendo Apriamo questo pacchettino e abbiamo vinto una cosa durata Bene, poi raccogliamo le uova delle gallinacce Ho altro mangime da dare? No, quindi facciamo il mangime Perfetto Raccogliamo le muccole e raccogliamo la pancetta dei maialini Vediamo da mangiare anche alle mucche, quindi facciamo il... Eh, qua non c'è... bisogna fare roba da mangiare Non ho più spazi, mannaggia Eh, vabbè, uno lo ingrandiamo Ho pagato 6 denari per ingrandire gli spazi Perché solo quei diamanti si può ingrandire Allora, vediamo intanto le missioni che devo fare 100 di quest, 100 di soia, 100 di... 100 di carota, raccogli 30 alberi da frutto Eh, vabbè, proviamoci Obiettivo sbloccato tutta frutta Dovrei vincere delle ricompense Ecco qua, perfetto Ho vinto un altro pacco regalo a 5 diamantini Meno male Ora, l'ho da girata Vediamo gli altri più attivi Sto piantando della soia Perché è una delle missioni da fare per il pass 5 giorni non so se ce la faccio Siamo a provare, però è un po' difficile Un po' difficilotto Un altro pacco ancora 3 pacchi di seguito 50 50 Sì, diamogliela questa poveraccia Ora Qua mettiamo un altro mangi Ok Ah, guardiamole i vari... Ok, bene Vediamo un attimo Raccoglio 100 unità Nutri 30 mucche Ok Un altro pacco ragazzi Non ci sto credendo Mi stanno arrivando completamente un sacco di consegne Un sacco di cose Non ho veramente parole Ok, dunque direi che Guardiamo un po' il giornale Vediamo cosa possiamo trovare Comprarlo per le varie missioni Perché avremmo in teoria delle missioni da fare Della soia ci manca Quindi compriamo nel giornale un po' di soia Bene, non ce la so io Cerchiamo perché Così riusciamo a fare qualche missione Importantissimo Anche se in realtà dovrei crescere di livello Più che fare le missioni Però vabbè È una dura vita Quella del contadino Ok, non trovo niente È un grave problema Perché non trovo nulla E quindi se non trovo niente da fare Devo assolutamente Sbloccare altre cose Perché Non se ne troviamo ora Niente Vabbè Vediamo che cosa mi chiede Dunque Una zucca Un biscotto Allora Facciamo subito un bel biscotto Poi mettiamo il burro Ecco qua E la zucca è La zucca la posso comprare Vabbè La compra all'ultimo Quasi quasi E poi dei popcorn Quindi Facciamoli subito Ecco qua Li ho messi a farsi I cake Che li facciamo qui Poi qua E conviene che facciamo altro zucchero Così Non siamo mai accorti di zucchero Un formaggio Le mucche devono assolutamente fare Un altro formaggio Annaggio It's a big deal Vediamo se qua L'hanno comprato così E' così Hanno comprato E direi che posso mettermi Devo fare la lucita della luce La soia Ah Non ne ho neanche tanta qua Speriamo che Me la comprerò sicuro qualcun altro Vedrete Già lo so Con la sfiga che ho Me la comprerò Ok Presa Ok Ah Già Che scema Ora ho usato lo zucchero Quindi non posso fare niente Perché ho usato lo zucchero Per fare un'altra roba Vabbè 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 Alice Ok Ok No Mi spiace Non ho niente Vediamo Trovo qualcosa Qualcosa Niente ragazzi Purtroppo la partita di oggi Finisce in fretta Finisce in fretta Mi sa Non ho più cose da fare Quindi E' un problema E' un problema perché Potrei fare alcune di queste missioni Però per esempio Per fare Completamente in ordine Nel furgone Quanti ne ho fatti Ora Due Mi sembra Tre Raccogli 15 prodotti Dell'edificio panetteria Ok Mettiamo un po' Altra a farsi in panetteria Provo a fare tutto Allora Raccogli 100 di carota Non posso fare niente Perché è tutto pieno La frutta L'ho appena raccolta E devo aspettare Che crescano Per raccoglierla Vendi dei prodotti A 5 fizzati Dotto della fattoria Molto spesso Non li ho Molto spesso Mi sottopagano Quindi no Ho messo del Il pane a farsi La ruota l'ho già girata Ho nutrito gli animali Questo non posso Perché non ho spazio Questo ho già fatto Tutto quello che avevo Non ho spazio Non ho spazio Non ho spazio Sono nella Cacchina Quindi direi Che ci aggiorniamo Tra un po' Non posso più svolgere nulla Allora Ho messo tutto a farsi Ok Niente Non posso Ragazzi Vi devo salutare Questo video è durato poco Spero che il prossimo Duri un pochetto di più Però spero che vi sia piaciuto Se così fosse Lasciate un like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E noi ci vediamo come sempre In un prossimo video Ciao ragazzi Lascia un commento Metti mi piace Cosa ti costa Dai che sei capace Mirko Alice Game Se il video ti è piaciuto Lascia un commento E iscriviti al canale La giornata La giornata è la coppia Che scoppia Sono come noi La vita di coppia Vissuta da eroi La coppia che scoppia È un'esplosione Mirko e Alice Dentro il nostro cuore Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi